dalla cima di bismantova così si chiama questo posto si domina tutta la pianura ve la faccio rivedere che sicuramente è meglio vedere lei magari che me eccola è uscita una giornata questo qui è una montagna con qui si vede magari poco però c'è tutta la neve sopra e l'idea a vi faccio anche vedere che questa ecco vedi è zona ferrata cioè la gente s'arrampica su questa parete qui ok io ovviamente non c'ho minimamente intenzione di arrampicarmici ci mancherebbe altro anche perché già non c'è avuto il fiato un altro po' per venire qua su figuriamoci per andare insomma a fare una cosa del genere fatto sta che in questo piazzo che adesso vi faccio vedere qui volerò con il drone decollo e dopo appunto vi faccio vedere insomma un'altra volta visto che è un secondo video come sarà la zona vista dalla dall'alto spero che anche questo tutto sommato di video vi possa piacere e anche questo posto ve lo consiglio ci vuol fiato per venire su non è difficilissimo non è però tutto sommato è un po impegnativa questo lo posso dire è un po impegnativa però va qua su insomma il paesaggio è ripagato o meglio il paesaggio ripaga della fatica che fai per arrivare qua su ok dopo quasi due minuti di introduzione vai col video dal drone ciao 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 ciao